L'umanità si trova sull'orlo di un cambiamento monumentale. La transizione della Terra e dei suoi abitanti dalla terza alla quinta dimensione. Questo passaggio, rappresenta un cambiamento massiccio nella coscienza umana e nella nostra esperienza della realtà. La terza dimensione, 3D, è caratterizzata dalle proprietà del tempo lineare, dalla dualità, dalla separazione, dalla focalizzazione sulla materia e dall'individualizzazione. Al contrario, la quinta dimensione, 5D, rappresenta la coscienza unitaria, il tempo non lineare, l'interconnessione di tutte le cose, la sintesi spirito-materia, e l'attualizzazione collettiva. Nel mondo 3D, sperimentiamo l'illusione della separazione, concentrandoci principalmente sulla nostra vita individuale. Ci sentiamo divisi gli uni dagli altri, dalla natura e dallo spirito. La nostra coscienza è limitata a ciò che possiamo percepire con i 5 sensi fisici. Tendiamo ad avere una visione ristretta ed egocentrica del mondo. La realtà delle 5D, trascende questa separazione. Lì abbiamo facoltà di percezione superiori ai 5 sensi. Ci sentiamo intrinsecamente connessi a tutta la vita, sperimentando l'unità con tutte le persone, le creature, le piante, la terra, e l'intero cosmo. La nostra coscienza si espande per comprendere la nostra connessione collettiva. La compassione, il servizio agli altri, la comunità e la collaborazione, diventano principi organizzativi della vita in 5D. La nozione di tempo lineare si dissolve nella 5D. Cominciamo a sperimentare la temporalità dall'eterno momento presente. L'intuizione e la sincronicità, sostituiscono il pensiero lineare di causa-effetto. Otteniamo chiarezza di intenti perché ci sentiamo guidati dal nostro Sé superiore, e dall'ispirazione divina. Le nostre scelte derivano dalla verità del cuore, e non dall'ego. Le azioni si allineano allo scopo della nostra anima. La manifestazione dei desideri avviene rapidamente attraverso l'intenzione focalizzata. Quando passiamo alla coscienza della 5D, subiamo un profondo risveglio. Questo pone le basi per la vita sulla Terra, dove prevalgono l'amore, la pace, la comunità, e la verità superiore. Quando i confini tra i mondi si dissolvono, entriamo in un territorio inesplorato. I giorni a venire, promettono mistero e maestosità in egual misura. Ci sveglieremo, e troveremo la realtà fisica fondamentalmente alterata? Le energie tremolanti si riverseranno sul pianeta, rivelando regni al di là della vista dei mortali? Mentre alcuni accolgono questo cambiamento con trepidazione, molti operatori di luce ne percepiscono il grande potenziale. Parlano di una nuova Terra dove regnano pace e armonia. Sono spariti gli orpelli della paura, della mancanza, e della separazione. A loro posto fioriscono l'abbondanza, la gioia, e l'unità con il Divino. Già ora, i semi della coscienza delle 5D, mettono radici nei cuori umani. Quali meraviglie ci attendono dall'altra parte di questa transizione? Una cosa è certa. Un momento di stupore è alle porte. La Terra si prepara ad ascendere, catapultando l'umanità in nuovi regni di pensiero e di percezione. Quando ci apriamo a ricevere le energie di accelerazione, i vecchi paradigmi si sgretolano. Il bruco entra nella crisali dei confede, confidando nell'emergere della farfalla. Ora è il nostro turno. Una metamorfosi globale alle porte, spaventosa per alcuni, profondamente liberatoria per altri. In ogni caso, sorge un nuovo giorno. La tempistica del grande passaggio alla 5D, è stata oggetto di molte speculazioni e previsioni nel corso degli anni. Alcuni sostengono che coinciderà con eventi o cicli astrologici significativi, indicando un futuro molto prossimo. Altri ritengono che lo spostamento possa allinearsi con l'aumento dell'attività solare, o con i cambiamenti del campo magnetico terrestre. Anche se nessuno può dire con assoluta certezza quando avverrà questo cambiamento monumentale, molti concordano sul fatto che ci troviamo in una finestra di tempo accelerato, e di cicli convergenti. C'è la sensazione che l'aumento delle vibrazioni sia costantemente cresciuto, preparando l'umanità al passaggio alla coscienza della 5D. Ci stiamo avvicinando rapidamente alla soglia. Alcuni sensitivi e profeti, hanno individuato nella fine del 2025 il periodo probabile per il cambiamento. Ma la chiave, è non concentrarsi troppo su un'unica data. Anche se la data esatta rimane poco chiara, un numero crescente di persone sostiene che il salto dimensionale è imminente. I racconti degli angeli e dei semistellari, offrono scorci sulla prossima fase della nostra evoluzione. La transizione prenderà slancio, diventando sottile e drammatica allo stesso tempo. Inizierà con un'apertura più palpabile ai regni mistici, ai contatti extraterrestri, e all'espansione delle percezioni. Mentre il velo si assottiglia, il nostro pianeta continuerà la sua progressione verso la forma cristallina, e la multidimensionalità. Piuttosto che ossessionarci con la tempistica, sarebbe saggio concentrare i nostri sforzi sull'innalzamento della nostra vibrazione individuale e collettiva. Più ci spostiamo internamente, più velocemente può avvenire il cambiamento esterno. Innalzando la coscienza globale attraverso azioni amorevoli, portiamo il cambiamento dimensionale dalla fantasia alla realtà. Vi amiamo profondamente, siamo qui con voi, siamo la vostra famiglia, di luce, siamo la Federazione Galattica. A.O., Aurora Ray, ambasciatrice della Federazione Galattica.